Le analisi del sangue sono tutte cose fondamentali per il nostro stato di salute. La prevenzione, più che altro perché i metaboliti che circolano nel sangue indicano al dottore e al medico effettivamente che cosa sta accadendo ai nostri organi ed effettivamente se dobbiamo implementare un cambio del nostro stile di vita per evitare che nel tempo poi l'organo si affatichi e si tramuti in qualcosa dannoso per la salute. Però in quest'ultimo periodo abbiamo notato che il sangue non rimane sul territorio, vale a dire ci sono tantissime aziende che aprono punti prelievo in ogni parte trasportando però poi il sangue dalla sede dove viene prelevata per ore fino al laboratorio. Il sangue a mio avviso deve rimanere sul territorio perché è molto importante la velocità alla quale il sangue viene trattato nel momento in cui viene prelevato perché se passano molte ore dal momento in cui il sangue viene prelevato dal paziente fino a che finisce nella strumentazione dove viene analizzata ci potrebbero essere delle modifiche della struttura chimica e della sua composizione che portano poi a un'analisi che non è attendibile per il paziente e quindi io credo che sia importante capire che mantenere il sangue sul territorio e consegnarlo a laboratori che sono sul territorio e quindi che possono dare delle risposte immediate e veloci è un punto importante per il medico stesso che effettivamente può interpretare quei dati nella maniera migliore e in sicurezza.